L'operazione odierna, denominata Alcatraz, è frutto di un'attività d'indagine condotta dal nuco operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Frascati e diretta dalla direzione di struttura antimafia della Procura di Roma, che ha portato all'emissione di un'ordinanza di misure cautelarie nei confronti di 35 soggetti per associazione a delinquere volta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa ha altresì consentito di individuare una vera e propria raffineria, sito nella zona nord di Roma, dove veniva appunto confezionata la sostanza stupefacente, in particolare cocaina, prima di venire smerciata al dettaglio nelle piazze di spaccio. L'attività d'indagine, anche sotto l'aspetto patrimoniale, ha consentito di individuare dei filoni dove avveniva il riciclaggio di questo denaro provento dell'attività delittuosa e si è proceduto anche quindi al sequestro preventivo di tre imbarcazioni, di un bar tabacchi, sito Torbella Monaca e nonché oltre 110.000 euro in contanti, orologi di valore e proprio durante la perquisizione di questa mattina abbiamo anche rinvenuto sostanzialmente...